Buongiorno a tutti e ben ritrovati per un altro appuntamento del ciclo dei seminari di Cross Cultural Ecologies. Oggi qui con noi abbiamo il grande piacere di ospitare Luca Montani, direttore comunicazione di MM. Ciao Luca, benvenuto. È un piacere tutto mio. Grazie. Sempre qui con noi abbiamo il grande piacere di ospitare Luca Poncellini, direttore del Dipartimento di Progettazioni e Arti Applicate. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, il tema di questo ciclo di talk è quello dell'ecologia, anzi dell'ecologia al plurale. Ecologia indica sostanzialmente le relazioni tra le forme di vita e il proprio ambiente e quindi si esplica sostanzialmente nelle azioni che le forme di vita svolgono nell'ambiente. Per quanto riguarda l'uomo, una delle azioni più importanti della nostra vita ovviamente è quella della comunicazione. Allora, tu che della comunicazione fai un mestiere, volevo chiederti se dal tuo punto di vista è possibile parlare di ecologia della comunicazione. È una domandona in realtà. L'ecologia della comunicazione è ciò che in questo momento a mio parere manca. Perché? Perché intanto spesso nella comunicazione intesa in senso molto lato, quindi generico, perdonate se sono un po' superficiale, però tendenzialmente manca un senso etico, cioè manca un senso di finalizzazione. Per anni, per troppi anni siamo stati una grande fabbrica di consenso nazionale popolare, attribuendo la comunicazione dall'intrattenimento all'informazione, però senza mai entrare in profondità. Io personalmente ne ho sofferto e ne soffro perché da una comunicazione etica, che non vuol dire morale o moralistica, è attenzione, vuol dire comunicazione finalizzata, un obiettivo, magari anche di crescita collettiva, dipende tutto, dipende il nostro futuro, dipende anche la gestione corretta o meno corretta di una crisi come quella che stiamo attraversando. Vuol dire sapere ascoltare le persone, vuol dire abbandonare gli slogan, i bias cognitivi, i pregiudizi, andare un po' all'osso della comunicazione, può voler dire, nel senso della tua domanda, abbandonare una volta per tutte quelle domande o quelle riflessioni che non servono alla crescita comune. E ahimè, noi ci siamo in questi mesi dovuti riappropriare, no? Di uno stile di vita personale, anche di una forma diversa di lavoro. E tutto questo ha bisogno di una nuova narrazione, avrebbe bisogno di una nuova narrazione. L'ecologia della comunicazione, secondo me, è quello che adesso occorrerebbe per fare la differenza, per essere all'altezza della situazione e non sempre lo siamo. In effetti, se non sbaglio, tu hai appena scritto e pubblicato anche su LinkedIn una bozza per un manifesto, per una nuova comunicazione o perlomeno per una nuova etica della comunicazione, è corretto? Ci racconti esattamente di che si tratta? Sì, io ho messo giù una bozza di struttura, poi l'abbiamo condivisa con tanti colleghi che lavorano a vario titolo nella comunicazione, chi nel crisis, chi nella predittività di scenario, chi nel ruolo di ascolto pubblico. E abbiamo allargato quel manifesto, l'abbiamo arricchito ulteriormente con l'obiettivo di redigere un testo che fosse il più laico, aperto, disponibile possibile. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello a varie latitudini e a varie longitudini riproporre il tema della comunicazione nelle sue varianti atipiche e proprie di questo momento. Lo dicevo poco fa, serve un nuovo etos, ma serve anche secondo me un nuovo ruolo dei comunicatori. Ecco perché è necessario un manifesto. Ancora una domanda sull'ecologia, però cambiamo ambito e parliamo anziché di ecologia della comunicazione, parliamo di ecologia architettonica. So che MM ha lavorato tanto a un progetto, quello della centrale dell'acqua, che era un edificio dismesso da tanti anni, invece MM gli ha ridato vita, l'ha rigenerata. Ci racconti un po' cosa avete fatto? Qual è l'operazione che avete organizzato? Bella domanda, che racconta una bella esperienza. Milano è zeppa di queste esperienze e anche MM ha voluto dare un piccolo contributo. Allora, la centrale dell'acqua è una ex centrale di pompaggio del 1906, quindi una delle primissime stazioni di pompaggio dell'acqua pubblica sul territorio. Pensate, allora in quella zona praticamente non c'era nulla, era tutta campagna. Ebbene, era uno dei tanti pozzi creati a suo tempo per l'allora fiera universale, quella del 1900, dei primi del novecento per l'appunto. Quindi poi è entrata in funzione, ha subito vicende alterne e negli anni, se non ricordo male, 80 ha finito la sua attività. Un po' perché non era più a norma, un po' perché in quella zona c'erano altre centrali, per quella zona c'erano altre centrali. Quindi è stata dismessa e noi l'abbiamo restaurata due o tre anni fa e poi abbiamo voluto aprirla al pubblico come museo d'impresa, mantenendo le identiche fogge e dimensioni, non l'abbiamo toccata evidentemente nei suoi aspetti architettonico-strutturali, però è diventato una nuova vocazione, è diventato un polmone che ospita persone, soprattutto bambini, famiglie. Pensate, in un anno di attività abbiamo ospitato 31.500 visitatori, quindi insomma non male, con un palinsesto di iniziative molto ricco. Siamo andati dai laboratori, la didattica, la didattica molto spinta, molto forte, intesa come laboratori interattivi, fino all'alta formazione, dibattiti, concerti, spettacoli. Abbiamo intrattenuto all'interno di quella struttura architettonica che ha un valore enorme dal punto di vista identitario, perché ha i tratti soliti, riconoscibili, che ha per esempio il grande manufatto del cimitero monumentale. Tutte le centrali dell'acqua hanno quelle fogge tipiche delle costruzioni pubbliche degli inizi del secolo scorso. Ebbene, l'abbiamo mantenuta, dandogli una nuova vocazione e la ricchezza di questo spazio adesso è fatta dalla presenza delle persone. Chiuderei con un'ultima domanda che ha a che fare con quella che è la tua esperienza da direttore di comunicazione di MM, quindi di un'azienda pubblica che sviluppa e gestisce progetti in ambito pubblico, in ambito sociale e ne fa tanti. Noi in Naba crediamo molto nella necessità di creare un nuovo profilo professionale che è quello di un designer in grado però di lavorare e interpretare e comprendere molto bene le relazioni che si creano con la società e all'interno della società. Quindi la mia domanda sostanzialmente è quanto credi che sia importante in questo momento sviluppare la disciplina del social design? Beh, è fondamentale. È l'anima del nuovo progettista. Pensa che noi nell'anno del sessantesimo, MM ha più di 60 anni di storia, ha partecipato alla costruzione, all'evoluzione, alla trasformazione della città. Non c'è manufatto che non abbia visto la mano di MM in città ma non solo. Ebbene, noi nell'anno del sessantesimo abbiamo inventato questo claim, engineering experience, pensando di inserire in questa accezione una dinamica addirittura sociale, direi quasi antropologica, quindi abbandonando il ruolo del mero progettista tecnico, che è fondamentale perché deve avere conoscenze e know-how infallibile, e unendo a quelle necessarie e ovviamente inderogabili accezioni, anche quelle sociali. Oggi noi parliamo di ingegneria sociale, ingegneria di prossimità, ingegneria di relazione, proprio perché diventa sempre più necessario immaginare la relazione con l'utente finale, le condizioni di vita e quindi di accesso a quei progetti che poi diventano prodotti, realizzazioni per l'utente medio. E poi MM, siccome gestisce bene i comuni nei fatti, e li ricordiamo, l'acqua, le case popolari e le infrastrutture per la mobilità, che oggi sono fondamentali, lo vediamo anche in questo periodo di uscita dal lockdown, ma nel pieno dell'emergenza. Ecco, per questi tre progetti, scusa, per questi tre beni comuni, il progettista deve avere anche una creatura di imprinting, è una creatura proprio di natura sociale. Per noi il social design è fondamentale, diciamo che fa la differenza anche nella selezione di professionisti, ma non solo per MM, sai, il Comune di Milano in questo momento storico, ed è un trend che ormai è partito e non lo fermi mica più, ha bisogno di persone che accanto alla dote tecnica abbiano questa dimensione di profonda innovazione, di lettura di scenario, di previsione, predittività degli scenari e poi deve avere una grande voglia di collaborare con le parti che non è più solo la committenza, ma anche la città, sono la catena di fornitura, gli stakeholder. Insomma, la città deve essere messa nelle mani dei social designer, io ne sono convintissimo, è la tendenza in atto, sono nuove professioni, nuove forme di occupazione, ma direi nuove forme di sapere articolato nel progettare, nel gestire la città. Milano da questo punto di vista fa tendenza, pensate solo sul clima, il piano clima del Comune di Milano, la resilienza, la capacità di realizzare progetti sociali che abbiano a che fare con involucri, con gli oggetti, con le infrastrutture, ma soprattutto con le persone. Milano da questo punto di vista è avanti, all'avanguardia, però lo è anche perché ci sono realtà come la Naba, voi sapete che questo è un mio mantra e quindi lo ripeto fino allo spasmo, che rappresenta un enorme contenitore, un bivaio di creatività e di visione che serve alle città. Quindi guai a voi se perdete questa dimensione, questa vocazione. Social designer è come l'ingegneria applicata, quella che io chiamo ingegneria di prossimità, sono gli avamposti importanti per progettare le città e vivere dal meglio che si può. Grazie mille allora Luca Montani per essere stato con noi, per gli spunti e per questo intervento. Speriamo di rivederci prestissimo. Grazie, ciao. A prestissimo. Grazie Luca, buona giornata.